Intanto buongiorno e grazie chiaramente a Teresa, a Nicola, a tutto il loro gruppo per l'impegno e tutto quello che ci stanno mettendo, che va molto oltre la normale attività di un operatore. Chiaramente partiamo dal fondo e ragioniamo su questo aspetto, la nostra regione è stata indirizzata da questa cosa, conoscendo l'attivazione del fondo abbiamo pensato come prima cosa ovviamente di riformulare il gruppo tecnico regionale, eravamo rimasti un po' indietro, nonostante avessimo approvato il piano nazionale demenze nel febbraio 2015, quindi fra le prime regioni a farlo, nel corso del tempo questa expertise per tanti motivi era andato perso e abbiamo ricostituito il gruppo. Il gruppo si è messo celermente a lavorare, devo dire che è fondamentale anche da questo punto di vista quello che veniva detto prima da altri colleghi, cioè la condivisione e cercare un percorso comune che possa essere utile. Devo dire che siamo facilitati dal fatto che la regione è piccolina, per cui bene o male ci conosciamo quasi tutti e questo al di là di pensieri o punti di vista diversi, però con il buon senso siamo riusciti ad arrivare a una mediazione. Come diceva prima Teresa, il ragionamento è partito appunto dal pensare che quello che potevamo fare necessariamente doveva partire, prima di tutto da una valutazione dello status quo. Questi, come aveva fatto vedere prima la collega Luzzi, sono i cdcd attivi nella nostra regione, sono prevalentemente distrettuali, 13 e 3 legati ad aziende ospedalieri o IRCS. Chiaramente il bacino di utenza è piuttosto eterogeneo, il rapporto a differenze orogeografiche di popolazione è chiaramente importante. Da questo punto di vista abbiamo pensato però di sistematicamente di fare una survey, una survey per ragionare appunto su quello che era lo status quo. Questa è la survey e questi sono i risultati. Quello che viene fuori, o almeno una parte dei risultati, quello che viene fuori è chiaramente che i nostri cdcd hanno giorni di apertura, tipologia e numerosità di personale e tanti altri aspetti molto molto eterogeni. Ci sono centri più sviluppati, centri molto meno attivi, in cui il tutto si riduce a un ambulatorio monospecialistico aperto qualche ora a settimana. Per cui partendo da questo presupposto e ragionando su quello che è la nostra storia, iniziata in maniera formale 22 anni fa, questa volta abbiamo pensato di provare a fare quello che già all'epoca era nei pensieri dei colleghi, cioè di strutturare un servizio che fosse in grado di fare diagnosi e prese in carico. Per fare questo abbiamo pensato il core del progetto è da un lato sì fare diagnosi del fattore di rischio principale per la demenza, ovvero l'MCI e conseguentemente della demenza, ma per farlo il modo che abbiamo pensato fosse utile è quello di strutturare i cdcd in modo da avere del personale specialistico che possa fare queste cose realmente. Abbiamo formalizzato il progetto con una delibera regionale il 13 giugno, che è stato approvato gli stessi giorni e siamo partiti anche lì in maniera, devo dire, siamo molto soddisfatti del percorso che stiamo facendo. Il progetto è stato ricepito appunto dalla regione, prevede una somma di 500 mila Euro. Gli obiettivi, vi li ha raccontati già Simona, ma comunque appunto sono quelli di valutare i casi incidenti di dnc minore e maggiore, una compilazione della carta del rischio, una caratterizzazione neuropsicologica sia per quanto riguarda chiaramente l'aspetto sindromico che differenziale e non ultimo una diffusione delle conoscenze relative attraverso la formazione sia agli specialisti del settore, agli MMG, sia attraverso la costituzione di un sito web. Non ultimo, è importante il discorso appunto della cartella clinica e dell'attivazione, la creazione di un software specifico che ci permetterà di avere il flusso di tutti i pazienti visti all'interno dei nostri ctcd. Ad esempio per rispondere al discorso che veniva fatto prima da Paolo, il software è totalmente aperto, ci aspettiamo e sappiamo che all'interno delle attività date in compito all'istituto c'è la creazione della cartella clinica, quindi quando questo verrà portato a termine chiaramente possiamo integrare quello che già succede. Allo stato attuale la necessità era di tracciarli e avere appunto conoscenza su quello che facciamo. Quando ci sarà il passaggio successivo saremo ben lieti di adottarlo chiaramente. Questi sono i referenti per quanto riguarda le singole unità operative che chiaramente non sono 16 come i ctcd, ma sono stati considerate che nella nostra regione c'è in atto una riforma che nel nostro piccolo si può definire epocale perché l'azienda sanitaria unica regionale cesserà la sua esistenza al 31-12 di quest'anno. Verrà sostituita da 5 aziende sanitarie provinciali che appunto già in essere vengono individuate in questo caso e sono affiancate nell'attività dalle aziende ospedaliere, gli ESC che vi dicevo poco anzi. Queste sono le destinazioni dei soldi, come potete vedere tre quinti, cioè circa il 60% di tutta di tutto il finanziamento sono stati destinati appunto all'assunzione di questi colleghi sul territorio. Questo è il cronogramma e siamo perfettamente in linea, considerate che il primo mese appunto è quello di giugno quando abbiamo approvato il progetto, siamo al quarto mese, ovvero settembre e l'attività era prevista appunto, l'espletamento del bando, la convenzione con le aziende e poi la creazione del software e da questo punto di vista attraverso questa delibera ulteriore del 997 del primo agosto che destina i fondi e un decreto successivo che fa l'impegno di spesa da parte della regione, a noi non è ancora arrivato nulla, a quanto si sembra, ma abbiamo anticipato noi e abbiamo svolto, abbiamo fatto prima l'avviso con la destinazione che vedete qui in basso a sinistra dei colleghi e il 14 settembre abbiamo fatto appunto espletato l'avviso, abbiamo stilato una gradatoria che già è pubblica il 22 settembre, questa settimana i colleghi vengono assunti e il primo ottobre come da cronogramma entreranno in attività, considerando che un sabato in realtà lo faranno il 3 e dal 3 abbiamo previsto un momento formativo con tutti i colleghi e in cui abbiamo coinvolto non solo i neossunti chiaramente, ma tutto il gruppo tecnico regionale e allo stesso tempo tutti i responsabili dei cdcd. Questo è il software che abbiamo costruito, questo è il software che abbiamo costruito è già attivo, ovviamente in back office, lo utilizziamo noi operatori e gli informatici e devo dire che stiamo cercando di definirlo al meglio con la possibilità di integrarlo e di avere tutti i suggerimenti utili per poterlo migliorare. Vi ringrazio per l'attenzione e ho finito qui.